Musica Sono Kiko Ciapponi, vengo da Livigno, ho 22 anni, sono sponsorizzato da Rossignor, Useless, Levin, Drake, Rift e basta. Musica Faccio il suo lavoro da 8-9 anni, mi piace, è un casino, quasi come ci avare, anzi forse di più, non so, sapete dire. Musica Una figata della Madonna è arrivare a decima l'anx, perché ero lì con tutta quella gente lì, tre meglio incazzata che gira da sempre, spacca il culo a manetta e io mi trovo lì come un pillo, mi guardavo a sinistra d'Oja Simen, Saverov, Mandano e Franco. Musica Troppo fisico comunque, mi piacerebbe magari riprovarla con la sensazione lì. Musica 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 Musica